Ok, sono tornato. Ascoltatemi ragazzi, sono il vostro amico Gabri Costa. Vi ricordate quando vi ho fatto vedere la prima parte dell'album di Crash Team Racing Nitro Fueled? Adesso non perdiamo tempo, andiamo a vedere altre immagini in questa spettacolare galleria o album, come preferite chiamare. Ok, proseguiamo e andiamo avanti. Allora, questi sono tutti gli accessori e tutti gli aggeggi del circo, perché stiamo parlando della pista bonus che si chiama Fiera di Koala, Circo al Neon. Poi questo qua è Nash Palla di Cannone e infatti vediamo la sua skin. Questo Nash si vedeva a Barin. Poi le femmine Bandicoot sono diventate circensi. Poi c'è di nuovo il pressurizzatore. Questa è Yahya Panda e nessuno è più veloce quanto lei. Poi questo strano veicolo con la faccia da miniponi si chiama Candy Cone. È bello, si vede il cono gelato. Questo alce si chiama Asti. È la prima volta che gareggia. Quando ci ha visti per la prima volta ci ha chiesto, stavate aspettando me? Bella questa casa fatta con il pan di zenzero. Me la mangerei tutta. Poi questo strano veicolo è Turbo Slitta. Poi guardate, c'è un dirigibile, le mongolfiere, insomma tutta roba dolce, perché è roba natalizia, capite? Avevamo fatto un circuito natalizio, vi ricordate? Poi questo veicolo è Snow Plower. Snow Plower, non so come dire. Questa pista bonus si chiama Gita al Pan di Zenzero. Molto bella. Poi questo deve essere un Desert Duster, se non sbaglio. Correggetemi se sbaglio. Ditemelo con un commentino qui sotto. Questo veicolo deve essere Dusty Rider. E questi graffiti si vedono nella pista bonus che si chiama Terre Rugginose, Mega Mix Mania. Questo è Mega Mix, una terribile creatura mostruosa fatta con quattro fusioni, con quattro personaggi. Cortex, Ngin, Tini e Dingo Dile. Questo è uno strano robot. Guardate, tutti i nostri personaggi si sono vestiti da Terre Rugginose. E poi c'è questa strana maschera che si chiama Apo Apo. Poi questo veicolo si chiama The Nuke. Guardate, un sommergibile distrutto. Deve essere una nave o un sottomarino, non lo so. Ah, aspetta! È la nave di Ngin, c'è anche la scritta. Allora mi sono sbagliato ragazzi, non è un sottomarino, è una nave. No, ditemelo voi se è una nave o un sottomarino, perché mi sta venendo un'ansia. Poi qui invece ci abbiamo i due fast food, hamburger tossico e pizza nucleare, perché stiamo parlando di gasmozia, drive in pericolo. Questo è l'imperatore Velo 27esimo, però a destra vediamo anche la sua skin che diventa Capitan Velo. Poi questo veicolo si chiama Galactic Cruiser, se non sbaglio. Poi questo è Void Manta. Poi è strano questo kart. E guardate tutte le femmine bandicoot come sono vestite. Ora ve lo dico, sono Litz Corsara, Isabella Predona, Emi Bucaniere, Megumi Razziatrice e Tavna Fili Bustiera. Poi di nuovo vediamo le insegne dei fast food, hamburger tossico e pizza nucleare, però io non li mangio. Queste sono le rampe. Poi questo bel veicolo è il Ciopper Velo, quello che usava lui quando lo affrontavamo nella sfida finale di Crash Nitro Kart. Poi queste sono le ruote, gli pneumatici. E per finire abbiamo questo strano veicolo fatto a forma di disco che si chiama The Cog. Bene è tutto, vi saluto. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto potete anche condividerlo. Però iscrivetevi. Ricordatevi che Gabriosta vi ha fatto vedere l'album di Crash Team Racing Nitro Fueled. Voglio sperare che vi siete divertiti a vedere le 117 immagini. Bene, ho parlato anche troppo. E mi raccomando, restate sempre a casa visto che c'è il coronavirus.